Radio Radio presenta Lavori in Corso con Stefano Molinari e Luigia Luciani Buon pomeriggio, buon pomeriggio, oggi abbiamo dato la postazione centrale, Luigia, buon pomeriggio Bentrovati a tutti, buon pomeriggio Ah, Roberto Lombardi, deputato del Movimento 5 Stelle e candidato alla presidenza della Regione Lazio Ben arrivata, grazie di essere con noi Grazie, ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori Oh, allora, iniziamo subito, se sei d'accordo, Luigia E tra l'altro ricordiamo come interagire con Roberto Lombardi Noi sappiamo che continuate a non gradire a essere chiamati onorevoli, vero o no? Assolutamente, dico sempre che sarà una valutazione a consuntivo, non a preventivo Se siete stati bravi siete onorevoli, insomma, va benissimo Allora, 3-7-7, però mi viene spontaneo, per cui mi devo ogni volta censurare Ma ogni volta poi dà anche la bacchetta a me, perché ovviamente anch'io c'ho il vizio di presentarvi come onorevoli No, ma non lo devi dire, loro sono portavozzi La parlamentare del Movimento 5 Stelle, Roberto Lombardi Allora, per interagire, 3-7-7-5-104-500 3-7-7-7-5-104-500 Mandateci i vostri messaggi, perché poi diventeranno anche delle sollecitazioni per Roberto Lombardi Io inizierei proprio basic, subito Che cosa rimprovera all'amministrazione Zingaretti? L'inconsistenza assoluta, la cattiva amministrazione dal punto di vista sanitario L'episodio dell'altro giorno, la chiusura del pronto soccorso del Sant'Eugenio Perché ha iniziato a piovere nella sala d'attesa La chiusura di presidi medici sul territorio La diminuzione di posti letto, le liste d'attesa infinite Il Recup, che è il centralino per prenotare le prestazioni sanitarie che non funzionano da qualche settimana Mi ha scritto giusto una signora di 60 anni l'altro giorno che deve prenotare una mammografia E ci sta provando da circa un mese Il sito della Regione Lazio per scaricare le analisi a domicilio che non funzionano da qualche settimana Posso continuare per ore? Se non mi fermate, grazie No, dobbiamo fermare perché poi ci sono anche dei tempi radiofonici Però mi pare bene, abbiamo messo tanta carne al fuoco da subito Anche perché questi sono i temi in teoria, ma anche in pratica Che interessano gli elettori, quindi i cittadini che poi sono elettori Però io partirei anche da due ultimissime Perché quando poi sapevamo che lei sarebbe venuta in studio da noi In realtà Nicola Zingretti non ha parte, Roberta Lombardi Invece da un'ora a questa parte sappiamo di un terzo candidato alla guida della Regione Lazio Ovviamente parliamo di Sergio Pirozzi e a beneficio anche di chi ci ascolta Andiamo a leggere proprio quello che non è un comunicato ma che si trasformerà a breve in una nota stampa Credo sulla spinta dell'agente comune e dei sindaci ho deciso di candidarmi alla guida della Regione Lazio All'unità della coalizione che evidentemente ancora non c'è Nelle prossime settimane dunque incontreremo gli alleati per valutare insieme la soluzione migliore Per mandare a casa la sinistra e battere l'inconcludenza del Movimento 5 Stelle Secondo me su questa notizia, su questo commento ci sono almeno 3-4 cose da dover dire insomma Sì, qualche cosetta ce l'avrei La prima che Pirozzi fino a qualche settimana fa giurava e spergiurava che mai si sarebbe candidato alla guida della Regione Lazio E che lui era uomo di parola e che quindi se avesse avuto questa intenzione non avrebbe avuto giustamente nessun problema a dirlo No, 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 no e subito dopo sì Già da un po' la misura, no, della coerenza della persona Anche se poi mi sembra intorno al 20 ottobre ci fu la presentazione del suo libro Già lì, no, tutti quanti andammo Infatti esattamente la settimana prima era uscita un'intervista sua netta categorica come ne erano uscite già parecchie prima Quindi non nulla di male nel volersi candidare o proporre o mettere a disposizione ci mancherebbe altro Però un minimo di onestà intellettuale insomma Anche a me erano usciti rumors mesi prima sulla mia possibilità di una candidatura E ho detto inoltre ci sto pensando e poi dopo l'estate ho sciolto le mie riserve Quindi non crede a questa spinta civica? Ma io me ne ricordo un altro che parlava dei sindaci, sindaci d'Italia, sindaci me lo chiedono Tale Matteo Renzi non gli ha portato molto bene, né a lui né ai cittadini italiani Quindi diciamo che è un sentiero già segnato e già passato Poi dopo c'è il richiamo di Giorgia Meloni Attenzione perché tu hai forzato il blocco, io faccio una traduzione ma non so quanto sia giusta La coalizione però ancora non è unita Veniamo dalle elezioni della Sicilia E poi mandare a casa la sinistra e battere l'inconcludenza del Movimento 5 Stelle Io so che loro quando si tratta di spartirsi le poltrone nonostante litighino su tutto sono assolutamente concordi e unanimi Non so che cosa deciderà il centrodestra però so per certo che finora l'unico grosso sponsor e fan di Pirozzi è Francesco Storace E noi cittadini laziali ci ricordiamo molto bene Storace e la sua eredità di mala sanità e di debito sanitario che ci portiamo ancora oggi dietro Quindi diciamo come dire se queste sono le premesse io un po' da cittadina laziale sono preoccupata Poi vedremo Oh però da cittadina laziale ma da concorrente alla presidenza della regione Lazio Tutto sommato la modalità con cui sta venendo fuori questa candidatura non può che farle piacere perché non è una candidatura unitaria al momento Quindi comunque potrebbe favorire la sua candidatura sottraendo voti magari al centrodestra Noi diciamo non amiamo questi tatticismi abbiamo un progetto politico come forza come Movimento 5 Stelle Ci presentiamo da soli perché non troviamo che nessuno nel panorama politico attuale sia affidabile come interlocutore Ecco però l'esempio siciliano dove comunque il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un grande successo Però il meccanismo elettorale delle regioni è tale per cui vince chi ottiene un voto di più Non vi spinge magari a cercare qualcosa di diverso per vincere Aspettiamo l'invasione degli ultracorpi da Marte evidentemente perché io vorrei avere una controparte politica con cui poter interloquire in maniera seria No io parlavo di alleati, ne possibili Eh è quello che sto dicendo anch'io, con chi? No lo so Con il centrosinistra, con il centrodestra No centrosinistra no Ma magari qualcuno che ce l'ha colpito Con la Lega, con quello che rimane delle frattaglie della sinistra che hanno votato tutto l'invotabile Hanno votato la legge Fornero, hanno votato la pessima scuola, hanno votato il Jobs Act con loro Io non lo so, non vedo francamente interlocutori credibili Anche perché si tende a dire da qualche tempo a questa parte che questa sinistra non sia poi realmente rappresentata da Matteo Renzi a livello nazionale In questo caso le chiedo, visto che ovviamente la battaglia è con Zingaretti E quando la Meloni dice mandare a casa la sinistra, parliamo di una vera sinistra? Assolutamente no Zingaretti intanto è sicuramente il candidato di Renzi che l'altro giorno lo ha sponsorizzato in tutte le maniere possibili e immaginabili quando è andato in tv Ed è rappresentante di Renzi che non è assolutamente il rappresentante di un progetto di sinistra Gli esempi che facevo prima di provvedimenti votati in questi anni, Jobs Act, la legge Fornero, la buona scuola Sono tutti esempi di quello che non avrebbe mai dovuto fare una forza di sinistra che si richiama a determinati valori Principi, diritti civili, diritti politici, diritti sociali Tutto questo è stato disatteso, la sinistra ha un altro genere di impostazione così come l'aveva la destra sociale Ma sono ormai categorie superate, sono categorie superate Le persone si devono riconoscere sui progetti Da questo punto di vista che ha fatto il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio qualche giorno fa proprio ai nostri microfoni Cioè Renzi è credibile all'interno del Partito Democratico fin tanto che rimane all'interno del suo villaggio Poiché il suo villaggio si è spopolato e di conseguenza gli uomini che evidentemente non hanno approvato Che un certo tipo di percorso si facesse, comprese ovviamente le riforme delle quali ha parlato Quindi ad esempio delle interlocuzioni con chi la pensa come voi, sono fattibili? A noi sui temi, sui provvedimenti, ma soprattutto sui temi, sulle battaglie, anche per il referendum Comunque abbiamo preso delle posizioni che erano condivise anche dagli altri Da altre forze politiche, anche forze civiche, anche forze sociali che magari normalmente non interloquiamo Perché poi ci sono sempre un po' di diffidenze, di provenienze ideologiche che magari ti bloccano ad avvicinarti a una forza politica Che come la nostra invece non si basa sull'ideologia Quindi su quello non abbiamo nessun genere di problema È l'alleanza, l'alleanza preconfezionata con qualcuno che in realtà negli anni ha dimostrato provvedimento dopo provvedimento Governo dopo governo, consigliatura dopo consigliatura, sindacatura dopo sindacatura Di non avere a cuore nient'altro che la perpetuazione di se stesso, i propri riferimenti elettorali, il proprio bacino di voti Le campagne elettorali di questi soggetti politici sono sempre state così E anche poi una volta che sono arrivati a fare il presidente della regione piuttosto che il sindaco Sono andati a mantenere quel sistema, o il presidente del consiglio e penso a Renzi Sono andati a mantenere un sistema di legami tra imprenditori, cooperative, pubblici e ufficiali dell'amministrazione pubblica infedeli Che andavano a fare gli interessi di pochi e non gli interessi dei cittadini Noi con questa gente non vogliamo avere niente a che fare tornando alla Sicilia Sì è vero, siamo andati da soli Volevo tornare a questo, che cosa ha insegnato il caso siciliano? Perché appunto là il Movimento 5 Stelle è il primo partito E abbiamo raddoppiato i voti rispetto a 5 anni Una grande affermazione, grandissima affermazione però il presidente della regione siciliana è Nello Musumeci E qua c'è qualcosa che deve cambiare perché non si possono ottenere grandi risultati però poi perdere di fatto le elezioni Allora, la lista personale di Nello Musumeci ha preso il 6% La lista del Movimento 5 Stelle a sostegno di Giancarlo Cancelleri ha preso il 35% Primo partito C'è un problema di legge elettorale che viene fatta da questi signori Il Rosatellum già sta apparecchiando per le prossime elezioni politiche Quando prima o poi ci manderanno a votare Una situazione in cui destra e sinistra non avranno la maggioranza Probabilmente, non è detto, ma probabilmente vincerà il Movimento 5 Stelle Ma poi grazie a quelle alchimie che loro fanno Loro si stanno già apparecchiando per le larghe intese Nella legge regionale ultima della regione Lazio è approvata un paio di settimane fa Approvata, tra l'altro, e questa è la cosa meravigliosa Concettualmente in maniera opposta rispetto a Rosatellum Mentre Rosatellum andava avanti a forza di fiducia Per non dare la possibilità alle opposizioni di interloquire con la maggioranza La legge elettorale regionale è stata approvata a larghissima maggioranza Ma l'effetto anche di quella è lo stesso Perché hanno praticamente diminuito il premio di governabilità E quindi anche lì stanno dicendo Seppure andrà il Movimento 5 Stelle A meno che non faccia il risultato più del 40 e rotti per cento Non avrà la maggioranza assoluta Cioè loro non sono Non gli interessa Quando dico loro, dico centro-sinistra e centro-destra Allora loro non interessa assolutamente nulla Di avere un progetto politico per il paese, la regione o il comune E di dire Vengo votato, vengo misurato Una volta eletto lo porto a compimento E poi gli elettori mi potranno misurare dopo No, loro con le leggi elettorali si garantiscono solo La possibilità di continuare ad occupare quelle posizioni di potere Questo perché comunque evidentemente Continuano a temervi Perché se voi andate oltre la soglia del 40% Non ce n'è per nessuno Poi ovviamente a quel punto non c'è neanche bisogno di allearsi Però le chiedo, visto che sta correndo proprio per la poltrona della regione Lazio Allora questa tipologia di coalizione Lei teme che poi le si possa ritorcere contro? Adesso non sappiamo che tipo di coalizione ci sarà Se ci sarà chi appoggerà Io non temo qualcuno contro il Movimento 5 Stelle Io temo qualcuno contro gli elettori Perché nel momento in cui tu vai a fare un voto per delle forze politiche Che già sai che andranno insieme Perché centrodestra e centrosinistra andranno insieme Andranno insieme alla regione Andranno insieme al nazionale Il cittadino sa già che qualunque progetto politico Qualunque programma elettorale di queste due forze Lui voterà Non si realizzerà Perché ovviamente uno tenderà a frenare l'altro Nella spartizione delle poltrone Nella spartizione degli incarichi Nella spartizione degli affari Degli appalti L'unica forza politica L'unico voto utile Che il cittadino può esprimere È un voto all'unica forza politica Che ha un progetto chiaro E dice Io vengo votato per questo progetto Non devo Anacquare questo progetto Con le convenienze di nessun altro Perché io vado da solo E poi tu cittadino Nel momento in cui mi affidi La realizzazione di questo progetto A fine del mio mandato Mi potrai misurare E dire Ho fatto bene Ho fatto male E decidere poi successivamente Quindi il problema Non è un problema A noi spesso viene detto Ah voi avete il problema dell'alleanza No sono i cittadini Che hanno il problema Di vedere un buon utilizzo del loro voto Ma certo ce l'avete Nella misura in cui dovete sempre superare quella soglia Cioè questo è il discorso Potreste avercelo Il problema Di governabilità Il problema Il problema è dei cittadini Perché se non votassero Movimento 5 Stelle Quindi se non dessero a noi La possibilità di superare Queste soglie Fantascientifiche Messe dai partiti Per cercare di mantenere In governabilità assoluta Il paese e la regione Rimarranno sempre Nella stessa identica situazione Votando questi signori Se ai cittadini piace questa situazione Se non piace non avere servizi pubblici Se gli piace Avere un anno di attesa Per avere una prestazione sanitaria Se vogliono andare Ad avere una sanità privata Perché se la sanità pubblica Viene messa nelle condizioni Di non funzionare Il cittadino malato Che se lo può permettere Si rivolge alla sanità privata Perché poi sono sempre di più I cittadini che non hanno i soldi Per curarsi Se ai cittadini italiani O l'anziali in questo caso Piace tutto questo Sanno già chi votare Se invece vogliono Una forza politica Che a un certo punto dice Io ti do un progetto Per cui in 6-7 mesi Ti elimino le liste d'attesa E ti dico anche come lo faccio Perché vado ad aprire le agende 6-7 mesi le sarebbero sufficienti? 6-7 mesi sono sufficienti Per l'abbattimento drastico Delle liste d'attesa E se volete vi spiego anche Perché poi non è che noi facciamo promesse Spariamo numeri come gli altri Tanto per tornare a quelle di cui parlavamo prima C'è un sistema C'è una legge tra l'altro nostra Già depositata in Regione Lazio E' un sistema applicato anche nelle altre regioni Che sono virtuose dal punto di vista Dell'accessibilità al servizio sanitario Tu prendi le liste e le agende Di tutte le aziende ospedaliere Di tutte le ASL pubbliche Quelli che vengono chiamati soggetti istituzionali E le metti tutte a disposizione dei cittadini Non solo alcuni reparti Non solo alcune prestazioni Punto primo Secondo Dai una misurazione di quello che deve essere La performance della prestazione pubblica Ovvero Io sono un ospedale E ho un servizio ecografico A disposizione dei cittadini Non ho mai misurato Quanto ci deve mettere un tecnico radiografista A fare quell'ecografia Anche se la legge lo prevede Però io non le ho mai misurato Cioè io so che per fare un'ecografia di un certo tipo Mezz'ora deve essere il tempo Quindi se io ho un orario d'apertura Di l'ambulatorio Dalle sette di mattina A mezzogiorno Sono cinque ore e mezz'ora Significa che io devo fare dieci prestazioni sanitarie pubbliche La legge poi dice Che l'intramenia nel pomeriggio Deve essere parametrata al pubblico Quindi tu non puoi fare più prestazioni in intramenia Di quelle che tu Se no ci sarebbe il trucchetto Non c'è controllo La legge lo prevede Ma non c'è controllo Io non do un parametro per la prestazione istituzionale Che è quella pubblica E non vado a controllare Se la prestazione in intramenia Effettivamente non superi il pubblico Apro le agende Parametro questo Si può fare Si può fare Ci vuole la volontà politica Allora noi qualche giorno fa Ci siamo domandati Perché sono arrivate due notizie Che coinvolgevano Zingaretti appunto Per indagato Per falsa testimonianza E poi comunque Il fatto che il 9 di gennaio Ci sarà la prima udienza Nei confronti di Virginia A Raggi Poi magari succederanno altre cose Però insomma comunque Quella è fissata per il 9 di gennaio Lei teme E quanto teme Che le vicende giudiziarie Possano prendere Il sopravvento Sul discorso sui contenuti In campagna elettorale Allora io penso che La campagna elettorale Si debba fare assolutamente Sui contenuti Perché i temi giudiziari Devono essere seguiti Nelle aule dei tribunali Quindi c'è una valutazione giudiziaria Dei fatti Che sarà effettuata Sia per quanto riguarda Il sindaco Raggi Sia per quanto riguarda Il governatore Zingaretti Quello che io Non posso non notare E mi dispiace francamente È la disparità Di trattamento Che c'è stata E c'è tuttora Nei confronti Dei due procedimenti Perché io avrei voluto Vedere la stessa attenzione Giusta Sbagliata Va bene Che c'è nei confronti Dei procedimenti Giudiziari O delle indagini Nei confronti Dei nostri esponenti Più esposti Che possono essere Il sindaco Raggi Il sindaco Appendino Vorrei vedere La stessa attenzione Anche per parti Politiche diverse Con la differenza Che per esempio Prendendo il caso Del sindaco Raggi Non si è mai Rifiutata Di rispondere Di rispondere Ai magistrati E ha sempre spiegato All'opinione pubblica Quello che stava succedendo E quando ha commesso Degli errori Se ne è assunta Le responsabilità E ha chiesto scusa Io dall'altra parte Ho un residente Uscente Che è stato Un anno e mezzo Indagato Per concorso In corruzione E turbativa D'asta Per mafia capitale E non se ne è saputo Nulla Fino all'archiviazione E anche adesso Che è stato Diciamo Indagato Per falsa testimonianza Proprio perché Le sue dichiarazioni Quando è andato Come testimone Perché lui si è avvalso Nel momento Della facoltà Di non rispondere Cosa di cui noi Non ci siamo mai avvalsi Perché quando abbiamo La giustizia La magistratura Ci chiama Noi siamo collaborativi Nei confronti della magistratura Quando è stato chiamato Come testimone E ha reso testimonianza Questa testimonianza Non ha convinto Il giudice E per questo Adesso C'è stato il rinvio A giudizio Eh rinvio Scusate L'indagine Per falsa testimonianza Capite che è ben diverso Cioè Io sono un amministratore pubblico Lei dice Lei dice Di fronte ai miei lettori Deve andare a spiegare Infatti Lo ribadisce anche In un post In un post Scusate In un post su Facebook Di due giorni fa Se non sbaglio Che ha suscitato Inevitabili polemiche Politiche Ovviamente Per chi sta Dall'altra parte Quindi parliamo ovviamente Per chi c'ha la coda di paglia Insomma Non so perché quello solo dice lei Ovviamente Però insomma Lei è andata abbastanza dura Nei confronti di Zingaretti Lei l'ho appena ribadito No? Puoi tacere davanti ai magistrati Però poi devi essere specchiato Davanti agli elettori Io mi ricordo Mi corregga se sbaglio Una posizione anche molto netta Che lei ha sempre avuto Nei confronti di Virginia Ratti L'attuale sindaco di Roma Ma ovviamente è nel suo stesso movimento Sia il vicepresidente della Camera Quindi Di Maio Sia Di Battista Hanno risposto su questo tema Aspettiamo d'accordo il 9 gennaio Cerchiamo di capire anche Come si difenderà il sindaco Virginia Raggi Se ricorrerà al rito ordinario Vediamo alternativo Però poi accade Che c'è una condanna in primo grado Come funziona? Il nostro codice etico è chiarissimo E lo abbiamo ripetuto in tutte le sedi L'ho già spiegato io L'ha spiegato Luigi Di Maio L'ha spiegato Alessandro Di Battista Il nostro codice etico Che noi abbiamo sottoscritto Prevede che al momento di una candidatura Sì di una candidatura Di una condanna Anche solo in primo grado Per un reato penale La persona condannata L'esponente politico del Movimento 5 Stelle Condannato Si dimetta Ma non venne capita all'epoca Quando reiterò certi concetti Anche su per quale motivo Insomma il sindaco Virginia Aveva scelto determinati personaggi Al suo fianco Cioè un po' di Adesso può dire Forse avevo ragione veramente Ma io La soddisfazione personale Io non voglio aver ragione Voglio che sia evidente La coerenza di una forza politica E la mia coerenza personale In cui non ho avuto paura Di andare da una persona Della mia stessa forza politica E palesare delle perplessità Relativamente a delle sue scelte Scelte che poi si sono rivelate Sbagliate di cui Lei si è assunta Il sindaco Raggi si è assunta responsabilità E ha chiesto scusa Questo A noi che ci dicono Ha il doppio pesismo Cioè questo non è doppio pesismo Questo è coerenza E l'ho applicata Prima all'interno Della mia stessa forza politica Come adesso posso Fieramente chiederla Alle altre forze politiche La conquista Chiamiamolo così Di Roma Serve Serviva Non lo so Servirà Da passaporto Per altro No Magari per Un 5 Stelle A Palazzo Chigi Ma anche Per eventualmente La presidenza Della regione Lazio Ecco Lei pensa che Il governo Di Virginia Raggi Fino adesso L'aiuterà Nella campagna elettorale Oppure le sarà di impedimento Io vorrei chiederle anche Un parere sul fatto Comunque che nel Decemo Municipio Rispetto al 43,6% Del primo turno Di giugno 2016 C'è stato Un calo Del 13% Ecco Può essere visto Come un giudizio Parzialmente critico Nei confronti Del governo Cittadino 5 Stelle Ma allora Spesso ci viene fatta La domanda Dell'effetto Raggi Io che mi Sto occupando Di regione Mi chiederei L'effetto Zingaretti Invece In questi anni In questi 5 anni Di consigliatura La maggior parte Dei voti Per la regione Lazio Viene da Roma Però per questo Le faccio questa domanda Quindi magari Ma Roma Non è avulsa Purtroppo Dal sistema sanitario Regionale E quindi Abbiamo visto Quali sono stati Gli effetti Di 5 anni Di Nicola Zingaretti Noi stiamo facendo Un percorso Complicato Non Non accampiamo Scuse Cioè nel senso La situazione Che abbiamo trovato Era sugli occhi Agli occhi di tutti E quindi Quello per me Ormai è un dato acquisito Cioè abbiamo superato Il colpa degli altri La situazione Che ci è arrivata Era quella Ce la siamo cercata Perché lo sapevamo Quello che avremmo trovato Forse è anche peggio Di quello che immaginavamo Però E quello che chiediamo È la possibilità Di avere I 5 anni di tempo Per onorare Gli impegni Che ci siamo presi In campagna elettorale Se dopo 5 anni Gli stessi 5 anni Che ha avuto Zingaretti Noi non avremo onorato Quegli impegni Allora l'elettore Giustamente Potrà trarre Un Una valutazione Però lei non mi ha risposto Quale era La domanda è L'elettore Romano Potrà dire Beh hai visto Tutto sommato Sono bravi Voto anche la Lombardi Alla regione Lazio Lo possono dire Secondo lei? Secondo me L'elettore romano Può dire Hanno un progetto Per questa città Che stanno mettendo In campo E vediamo come andrà Hanno un progetto Per questa regione Sono gli unici Che hanno un progetto E sono gli unici Che hanno le mani libere Per poterlo realizzare Se votati Vediamo come andrà E io sono sicura Che davanti Alla ragionevolezza Dei nostri temi E alla fattibilità Del progetto politico Le persone di buon senso Indipendentemente Dallo schieramento Ideologico Da cui vengono Non potranno Che votare Il Movimento 5 Stelle Allora Stanno arrivando Tantissimi messaggi Altre 775 104-500 Con tante domande Per lei In realtà Molte le abbiamo fatte Tanti insistono Sul tema della sanità Ad esempio Potete chiedere Alla Lombardi Che finanzierà La sua campagna elettorale Questa non c'entra niente Però Ad esempio Le liste bloccate La difficoltà Proprio di prenotazione Questo credo Che sia un altro tema Dominante Per quanto riguarda La sanità regionale Non soltanto Quella regionale Ma noi dobbiamo Occuparci Ovviamente Di questa Io direi Intanto Di ricordare Anche il numero Per poter intervenire In diretta Perché dopo Questa breve pausa Sicuramente Riusciamo a prendere Anche qualche Telefonata Degli ascoltatori 06-88-33-033-040 Finale Scorriamo qualche messaggio Perché Ovviamente La domanda Imperante Sì vabbè Ci dica però La Lombardi Perché scegliere La Lombardi Roberta Lombardi E non Zingaretti E non a questo punto Sergio Pirozzi Perché Non occorre Soltanto Demolire L'avversario Faccio una sintesi Rispetto ai tanti Messaggi Che sono arrivati Ma bisogna Dire con Fermezza Qual è il proprio Programma Qual è la propria Forza Rispetto agli altri Allora A parte che noto Che la persona Che ha chiesto Sia questo Che come Finanziare la mia Campagna elettorale Si chiama Silvio Spero che non sia Quel Silvio No 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 Se ci guarda Silvio Berlusconi Noi ne siamo contenti Se vuole intervenire in diretto A Cavaliere Lo fa Per carità di Dio Ex Cavaliere Il cavaliere Sezza cavallo Allora Penso di aver dato Un piccolo Saggio Di quanto possiamo Quanto preparati Quanto determinati E quanto agguerriti Siamo sui temi Per esempio Quello dicevo prima Delle liste d'attesa Ma insomma Ci sono tanti Tanti temi Anche perché la regione Ha una dimensione Spesso non percepita L'unica dimensione Che percepisce È quella sanitaria E sulla sanità Come dire Se una persona Mi chiede Come mai non votare PD O Forza Italia O centrodestra O quello che sarà Il Regione Lazio Per la sanità Io rispondo solo Con gli ultimi Quattro governatori Storace Marrazzo Polverini Zingaretti Se vi è piaciuto Quello che hanno fatto Votateli Cioè Bella per voi Come si dice a Roma Che vi devo dire Penso che i risultati Anzi i risultati I disastri Siano sotto gli occhi Di tutti Oh allora Tra poco continuiamo Si sta dimostrando Molto disponibile Di questo la ringraziamo Ma grazie a voi Poi ci sono ancora Un sacco d'altre domande Le faremo tra poco Ovviamente Un 10 secondi Sul Sul Fermo Di Roberto Spada Un fatto importante Abbiamo anche le immagini Intanto la regia video Se possiamo mandarle in onda Un episodio Quello che è successo ieri Di Definire Increscioso E Riduttivo Un episodio Di una violenza Di una gravità Tra l'altro Una violenza In un luogo Che dovrebbe essere Un luogo Di aggregazione Di sport Di senso Di disciplina Anche la Federbox Ha aperto un'indagine Si tra l'altro Abbiamo scritto Noi personalmente Io personalmente Sia al presidente Della federazione Pugilistica Che al presidente Del coni Giovanni Malagò Per chiedere la radiazione Di questa persona Dalla federazione Anche perché In completa antitesi Rispetto a quelli Che sono i principi E i valori Deontologici Che porta avanti Il pugilato La nobiltà Dell'arte sportiva Ecco comunque Il fatto che sia arrivato Il fermo Da parte dei carabinieri È un dato positivo No? Ieri ci domandavamo Tutti ma come mai Ancora in giro Adesso non è più in giro Insomma Assolutamente Tra l'altro Leggevo qualche agenzia Prima che Il fermo È anche Aggravato È stato Combinato Perché c'è Un tessuto Mafioso In cui si muove Questo personaggio La famiglia Di questo personaggio Le aggressione Le aggressioni Aggravate E violenza privata Con l'aggravante Di aver agito In un contesto Mafioso In base All'articolo 7 Della legge 230 E quindi Ostia Sappiamo Sappiamo da che cosa sta Da quale situazione sta uscendo Tra l'altro lì c'è un concentrato di famiglie O comunque clan Esponenti di vari tipi di mafie Da l'endrine calabresi Alla camorra Alla mafia siciliana Direttamente O attraverso connotazioni E poi c'è stato il fenomeno Che non ha trovato La fondatezza giuridica Dell'essere identificato come una mafia Che era il clan Riunito intorno a mafia capitale Anche perché probabilmente La mafia in questi anni sta Anzi senza probabilmente Perché lo dicono persone Molto più adorevoli di me Che la combattono ogni giorno Sta comunque mutando pelle E purtroppo La legislazione Non è ancora Aggiornata Sulle mutate Sulla trasformazione Che la mafia sta operando Quindi fa bene Pignatone Insomma a insistere Da quando è arrivato Fa benissimo Pignatone Ad insistere Perché Quando tu vai a sostituire Quello che è Un apparato Che dovrebbe andare A garantire il bene pubblico Con un apparato Una rete Un sottostrato Un intreccio di relazioni Che invece Antepongono L'interesse Di quella stessa rete A quello pubblico Quella è mafia Allora Su questo continuo Vi faccio una domanda A cui risponderà Tra pochissimo Il prefetto Vulpiani Ha detto Che ci vorrebbero Altri dieci anni Di commissariamento Del decimo municipio Di Ostia E dintorni Allora Le chiederemo Se secondo lei Questa mancanza di fiducia Evidentemente Nel Potere politico Potrebbe esserci Un presidente Una Presidente Cinque stelle A lei dice qualcosa E che cosa le dice Ci risponde tra pochissimo Non lasciate Radio Radio Dalla domanda Che le avevo fatto Il prefetto Vulpiani Dice che ci vorrebbero Altri dieci anni Dieci anni Di commissariamento Di Ostia Diciamo Lui parla di Ostia Insomma Decimo municipio Prevalentemente Proprio Ostia Quindi non ha fiducia Nel potere Di intervento Della politica Per bloccare I fenomeni Mafiosi Di cui L'episodio Che ha coinvolto Roberto Spada E la troupe Di Nemo Sarebbe Un sintomo Evidente Cioè che Proprio Per il passaggio Io cito Vulpiani Nel passaggio Dal commissariamento Al regime Ordinario La mafia Di Ostia Si sta Riposizionando E dice Come andiamo noi Ecco Che ne pensa lei Penso che La politica A Ostia Ha un compito Ancora più Impegnativo Di quello Che ha Normalmente Cioè deve Dimostrare Che esiste Una Classe politica Che ha Un progetto In quel caso Per il municipio Ma anche Insomma per la città E per il paese Che non si fa Condizionare Da Il fenomeno Mafioso O da Interessi Che non sono Quelli dei cittadini Della comunità E deve andare A ricostruire Questo senso Di comunità Deve andare A ricostruire Anche la speranza Che ci sia La possibilità Di Sottrarsi All'intimidazione Mafiosa Perché se tu sei Lasciato solo Di fronte alle mafie Sei inerme Ovviamente E sei più soggetto Sei vulnerabile E sei anche Più soggetto A quella che è L'opera Dell'intimidazione Mafiosa Ma se tu sei Una comunità La scarsa partecipazione Al voto È effetto dell'intimidazione Secondo lei La scarsa partecipazione Al voto Parte che lì È stata particolarmente Forte E io penso Che effettivamente Anche le difficoltà Logistiche Abbiano influito Però sicuramente Anche in Sicilia Abbiamo visto Che c'è un tasso D'assenzionismo Molto alto Secondo me Dopo ci sono le mafie C'è un tasso D'assenzionismo alto E questo deve far Riflettere Una forza politica Come la mia Che deve riuscire A convincere Quante più persone Possibili Che c'è un altro Modo di far politica Se le persone Che vanno a votare Sono poche Le clientele Mafiose Ovviamente Vincono Io pensavo A Musumeci L'altro giorno Il giorno dopo Che ha vinto Gli hanno arrestato Già uno Cioè Come dire La lista Degli famosi Impresentabili Non era una lista Buttata A caso E quella Ammucchiata Di impresentabili Di ex E di clientele Di ex Governatori Della regione Sicilia Parlo di Cuffaro Lombardo Che hanno appoggiato Miccic Che non è stato Governatore Ma comunque Un esponente Importante Importante Della Sicilia Sono le persone Che poi hanno Portato Voti A una persona Che magari Sarà anche Onorabilissima Così Ma che da sola Ha riscosso Il 6% Di consenso Personale Quello che dicevamo Prima E' per questo Che ritorno Un po' All'inizio Della nostra Intervista Della nostra Chiacchierata Faccio un po' Che bisogna Essere particolarmente Specchiati Nel momento In cui È leali Con i cittadini Mi riferisco E torno Proprio Al post Nei confronti Di Zingaretti Cioè Cos'è che chiede A Zingaretti Perché la magistratura Deve fare Il proprio lavoro Puoi non rispondere Torniamo Proprio Alle posizioni Di prima Proprio perché Stiamo parlando Di lealtà Di essere specchiati Lei ha parlato Di coerenza Esatto Esatto Allora io Tanto per Non sottrarmi Mai a nessun Argomento Spesso mi viene Chiesto Sempre del mio Rapporto Con La Raggi Ecco allora Io all'epoca Ce l'hanno chiesto Tantissimo Chiedetele Che cosa pensa Veramente Di Virginia Raggi Allora All'epoca Quando ci fu Il caso Delle nomine Di Raffaele Marra E Salvatore A Romeo Chiesi Alla Raggi Di chiarire Perché di queste nomine Che io personalmente Reputavo sbagliate E come chiesi All'epoca Questo Alla Raggi Adesso chiedo A Zingaretti Di andare Di andare a chiarire Con la stessa Coerenza E con la stessa Cristallina Semplicità Come? E chiedo Bravissima A fare conferenze stampa A tagliare nastri A fare conferenze stampa Tagli qualche nastro In meno E faccia Vuole fare una conferenza stampa Visto che li riesce bene Prenda tutti i giornalisti Non si sottragga Le loro domande Sempre che ci siano giornalisti Che facciano le domande E comunque ce ne sono E tant'è che uno Ieri si è preso anche Una capocciata No no Assolutamente E spieghi davanti Ai cittadini Che cosa Sta succedendo Perché lui Si è rifiutato Di rispondere All'epoca Quando c'era L'indagine Sul concorso In corruzione Turbativa d'asta E perché Adesso Ha un'indagine A suo carico Per falsa testimonianza Per quando Si è dovuto Andare a presentare Quindi con l'obbligo Di dichiarare Come testimone Nel processo Di mafia capitale Chiarisca la sua posizione Se induggiasse Zingarezzi Adesso Lei glielo sta Come dire Pubblicamente Glielo chiedo Glielo chiedo Come cittadina Glielo chiedo Come cittadina E se induggiasse Io penso Che noi cittadini Trarremo le debite Conseguenze Se tu non senti Il bisogno Soprattutto in questo momento Che ti stai Ricandidando Di andare A chiarire La tua situazione A dare La tua Versione Dei fatti In modo che sia Come dire Dimostrata O almeno Insomma Argomentata La limpidezza Dei tuoi comportamenti Tu come fai A dire Io mi ripresento Riaffidatemi Il vostro voto Al netto Di disastri Della sanità Al netto Di tutto Ma come faccio A fidarmi A fidarmi Di una persona Che non sente Nei miei confronti Di cittadino Il bisogno Di spiegare Un'accusa Così Renzi ha tirato fuori Il garantismo Che voi Spesso mettete L'altro giorno Proprio da Flores Alla 7 Lei lo ha ricordato Lei Qual è il passaggio Di Matteo Renzi Su Zingaretti Cioè la protezione Espressa pubblicamente Attraverso quell'intervista Tirando fuori Il garantismo Ma il garantismo Nel senso Noi non stiamo facendo Un giudizio penale Quello lo fanno La procura E la magistratura Noi stiamo chiedendo Dell'assunzione Di una responsabilità Politica Della relazione Tra Zingaretti Il presidente uscente E Giuseppe Cionci Tesoriere Della sua campagna elettorale L'uomo che Buzzi Definiva L'uomo dei soldi Di Zingaretti E chiarire effettivamente La relazione Tra i due E come essi abbiano gestito Ad esempio La gara del Recup Che è nella sentenza Di primo grado Di mafia capitale I giudici scrivono Su questa gara Delle parole pesantissime 30 milioni di euro Annuali Per un appalto Di un semplice call center È qualcosa Che è follia Se non serve Semplicemente Ad alimentare Clientele E tangenti L'hanno scritto i giudici Sì l'abbiamo Due giorni fa Noi questo passaggio Con Stefano Molinari L'abbiamo anche letto Intanto abbiamo aperto le linee Allo 068833303040 Finale Stefano vuoi fare una domanda Poi prendiamo gli ascoltatori Io vorrei sapere Che cosa è cambiato Dall'inizio Dell'esperienza Diciamo così Parlamentare E quindi Cosa avete imparato Cioè in che cosa Adesso siete diversi Dal 2013 Siamo sicuramente Maturati Siamo sicuramente Cambiati No Maturati Sì Maturati Insomma Nella Nella concretezza Capire che cosa Si può fare Effettivamente Che cosa È velleitario Maturati Nella Anche nella gestione Insomma Delle relazioni Con i media Probabilmente Con Anche con le altre Forze politiche Io mi ricordo Che all'epoca Quando ci fu Il famoso streaming Con Bersani A me dispiace Personalmente Umanamente Nei confronti Di Bersani Ma dal punto Di vista politico Io come cittadina Mi sono sentita Francamente Presa presa in giro Mi sembrava Veramente Di essere davanti Al televisore A vedere Uno dei tantissimi Talk Che tutte le sere Imperversano In cui Come al suc Di qualche Cittadina Vai E tiri fuori La tua bancarella Di mercanzia E dici Venghino Siori Venghino Io ti vendo Questo Questo E quest'altro Non era accettabile Non era accettabile In quella situazione Dopo quell'esito Di quel voto Non era accettabile Che tu pensassi Effettivamente Che una forza Come la nostra Potesse permettere Perché poi Lui non ci chiese mai L'alleanza E questa cosa Venne fuori Anche successivamente In tanti Poi chiariste Anche su questo aspetto Lui Bersani Chiese Che noi Consentissimo Al suo governo Di nascere Che tradotto Dal politichese Al palazzo Significava Che i nostri senatori Si dovevano Alzare E far abbassare Il numero legale Perché potesse Raggiungersi La fiducia Questa era L'irresistibile Offerta Del PD Quindi Ribadisco Mi dispiace Ecco Probabilmente Adesso Con una maggiore Ma la maggior Maturità L'avrei trattato Menomale Siete più elastici Siete più Meno dogmatici Vi ritenete Ma in che senso Non lo so Ha detto lei Che siamo cambiati Siamo diventati Un pochino più Siamo maturati Maturati I valori sono quelli E cinque anni di palazzo Devo dire Non ci hanno cambiato Da quel punto di vista Di questo sono Estremamente orgogliosa Nella gestione Poi Delle relazioni Con le altre forze politiche Con i media Anche nelle nostre Dinamiche interne Ovviamente abbiamo Acquisito maggiore maturità D'altronde Insomma Partivamo Io mi ricordo La prima conferenza stampa Che ho fatto Che avevo tra l'altro 39 di febbre Rientro nella stanza Dopo che eravamo Stati nominati Io e Vito Crimi Come capogruppo E praticamente Avevo davanti a me Più o meno Tre metri in altezza Perché poi avevano montato Tre battelli Pedane Così Di Telecamere Giornalisti E davanti Ma non sto esagerando Una roba così Di microfoni Uno sopra l'altro Immaginarsi Che tu fai una vita Normalissima Fai un'attività politica Non spaventa più Adesso si gioca un po' No Adesso Adesso Provo Salute Allora abbiamo due ascoltatori Mi raccomando Un po' di brevità Perché il tempo Ovviamente È strettissimo Marco Andrea Credo Marco Sì Salve Ciao Buonasera E un buonanerà Dottoressa Lombardi Volevo fare due domande Velocissime Intanto La prima Cosa è previsto Nel progetto Del Movimento 5 Stelle Io sono un elettore Del 5 Stelle Per quanto riguarda La sicurezza della Regione Collegata a questo Una domanda Di cosa può fare La Regione Per quanto riguarda Il sottorganico Della polizia locale In quanto strettamente Anche di competenza La Regione In base alla legge 1 Del 2005 Che oggi vede Un sottorganico Di più di 3.000 unità Della polizia locale E c'è un concorso In essere Tutto collegato Cosa può fare la Regione In questo senso Sicurezza Quindi la sicurezza Ovviamente E la mancanza Di uomini Che possano Poi adoperarsi Per Magari se li appunta Roberta Lombardi Così poi andiamo avanti Andrea Sì pronto Buonasera a tutti quanti Volevo fare questa domanda Il Movimento Sottorganico Non prende I rimborsi elettorali Io invece Credo che sia ora Di prenderli E di investirli Alzando pace Sola finisca Facendo dei comitati Facendo Diciamo Questi da qua Io penso Che sia il momento Di prendere dei soldi E utilizzarli Comunque Sottorganico Anche delle persone Per finanziare la politica Andrea grazie Prendiamo un'altra telefonata E poi magari rispondiamo A queste prime tre domande Roberto Sì pronto Benvenuto Vai Roberto Rapido Buonasera Senta io sentivo L'onorevole Lombardi Prima a parlare Di richiesta Di chiarezza Da parte di Zingaretti Io Tra l'altro Non ho mai votato Io sono un elettore 5 stelle Ho votato la Raggi Ho una cosa a cuore Che avrei voluto Il piacere Di chiedere Alla Alla sindaca Che è una cittadina Roberto Un po' di brevità Però nell'esposizione Ma è la domanda Cortesemente La domanda è questa Ci sono 30 milioni di euro Sottratti Ai cittadini romani In merito Alle multe Effettuate In via di Portonaccio In cui Nessuno Dei 5 stelle È riuscito A dire una parola E a prendere Le difese Dei cittadini C'è gente Che ha 8 mila euro Di molte La sindaca Non ha detto Una parola Grazie Stiamo facendo ricorso Anche perché noi Di Radio Radio Chi ci segue Ne abbiamo parlato Ne abbiamo parlato Almeno in 12 puntate La domanda Penso che sa chiara Roberta Lombardi Penso che voglia rispondere Almeno a tutte e tre Allora Sicurezza 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 Le competenze della regione Per la sicurezza Sono la polizia locale Come ricordava O meglio La legislazione Sulla polizia locale Come ricordava L'ascoltatore La sicurezza sul lavoro E la protezione civile Allora Polizia locale Nel nostro programma Stiamo Presentando il progetto Di una scuola regionale Di formazione Della polizia locale Ed andare verso Una E questo tra l'altro È un voto Che è stato espresso Anche a livello nazionale Andare verso Un coordinamento Delle polizie locali Dell'area metropolitana Di Roma Fino ad arrivare A un'unica polizia locale Per l'area metropolitana Questo permetterebbe Soprattutto In un'area metropolitana Così Contigua Di riuscire A migliorare il servizio Razionalizzare L'utilizzo delle risorse È vero Mancano 3.000 La frammentazione è incredibile La frammentazione è incredibile Se a te ti capita Ancora c'è la polizia provinciale C'è la polizia provinciale Non c'è più la provincia Non c'è più la provincia È una renzata Praticamente Però teoricamente Non c'è più la provincia Ma c'è la polizia provinciale Esatto Quindi evitiamo Di fare Spezzettare Un servizio Così complesso Tra l'altro Perché la polizia locale Non fa solo strada Nel servizio Del controllo della strada Ne fa tantissime altre attività Contro l'abusivismo Contro Sulla sicurezza Contro A favore della sicurezza Del lavoro Polizia nonaria Polizia giudiziaria Quindi si tratta Di razionalizzare Questo Nel frattempo Il sindaco Dopo anni Ha bandito Un nuovo concorso Per assumere Nuove personali E andare a colmare Quel gap Da 8.000 E passa Operatori Che dovrebbero essere Il rapporto Alla popolazione Della città di Roma E a maggior ragione Dell'area metropolitana In realtà Ce ne abbiamo 5.000 E qualche centinaio E tra l'altro Con un'età media Anche abbastanza Elevata Quindi L'impegno Sulla polizia locale È questo Sicurezza sul lavoro Dobbiamo andare Ovviamente A offrire Quanti più strumenti Per andare A riprendere La figura E a riutilizzare Meglio La figura Del medico Del lavoro Che esercita La vigilanza sanitaria Nelle realtà Lavorative E lì è un discorso Nazionale Invece ridare Efficacia Al lavoro Degli ispettori Del lavoro Perché in questi anni Sono stati depotenziati Stanno facendo Tutti i controlli Per tabulas Cioè per le carte Sono pochissimi E quindi Ovviamente Non possono controllare Un territorio VAS Ma questo funziona Nel Lazio Come Non funziona Nel Lazio Come non funziona Nel resto d'Italia Ma lì è un livello Nazionale Su cui comunque Interverremo E comunque abbiamo Già presentato Anche quando si è Trattato della Creazione Dell'Agenzia Nazionale Sulla Vigilanza Sul lavoro Di ridare Effettività E controllo Perché il controllo E la sanzione È il lato Mancante Della politica Di l'azione politica Cioè Noi abbiamo Tantissime leggi Alcune anche buone Alcune anche buone Che non vengono applicate Perché non c'è nessuno Che ne controlli L'applicazione E che applichi Le sanzioni Nel caso In cui non vengano applicate Io temo che lei Deba tornare a trovarci Perché abbiamo un sacco di Ascoltatori e domande In sospesa Ci sono fini peggiori Insomma Che tornare in radio Abbiamo però ancora Qualche altro minuto Ce l'hanno concesso Devo essere rapidissimo Allora No abbiamo Rimborsi elettorali No Rimborsi elettorali No Perché Per noi È un vanto Aver rispettato La volontà Dei cittadini Espressa Con referendum Del 93 Che non vogliono Il finanziamento pubblico Nei confronti Delle forze politiche Quindi per noi È un patto Nei confronti Dei cittadini Le multe Di Portonazzo Conosco Il La problematica Perché ovviamente È arrivata anche a me Spero di non averne Presa nessuna E secondo me Dovreste appunto Chiedere al sindaco Perché Insistiamo 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 Noi su questo Veramente abbiamo insistito A più riprese Proprio con Il Campidoglio Continuiamo a farlo Perché stiamo seguendo La questione dei rimborsi Abbiamo l'ultimo ascoltatore E poi una domanda Ovviamente da parte mia E da parte di Stefano Molinari Prima di lasciarla andare Michele Benvenuto Buonasera Buonasera Dottoressa Lombardi Buonasera Io volevo farle Una domanda Sic Circoncisa Diciamo Volevo sapere Qual era la sua posizione Sui boli auto Della regione Lazio Oh che domanda Lo pago No non saprei In che senso Mi l'argomenti meglio L'abolizione forse Ma guarda Abolizione Oppure perlomeno Una riduzione Anche perché Cioè io Ho molta a cuore Non tanto il bollo Ma più che altro Il superbollo Essendo appassionato di auto E Parlando diciamo Che Una domanda di nicchia Però Michele E anche vagamente E anche vagamente interessato Ci consenti Michele Tanto la dobbiamo rincontrare Da qui insomma Le lezioni Mi preparo sul superbollo Abbiamo il tema del lavoro Da trattare Avevo dei dati Ci abbiamo un sacco di altri temi Insomma Che non sono venuti fuori Magari quelle cose un pochino più piccole Ci riserviamo di trattarle In un altro momento Stefano No beh perché Questo qua In realtà rientra nel discorso Anche delle multe Le automobili sono una delle fonti Di finanziamento principale Della regione In qualche modo No per esempio Il bollo Sì la tassazione diretta La tassazione diretta Il resto sono trasferimenti Io ho chiuso perché c'è mio padre che ascolta Siccome mi dimentico sempre di pagarla Basta sempre lì Io ho chiuso per questo Era una cosa interessante No però Allora siccome è stato Molti ascoltatori ci hanno chiesto Ok Lei ha parlato della differenza Del Movimento 5 Stelle E sua personale Rispetto ai competitors No però Le prime due cose Che devono essere fatte Da lei Qualora fosse Presidente della regione Lazio Allora quella della riduzione Dell'liste d'attesa È la prima La seconda dei sette mesi Sì L'eliminazione del super ticket Sulle prestazioni sanitarie Perché tanto non porta A un maggiore introito Alle casse regionali Ma anzi fa fuggire gli utenti I cittadini I pazienti Verso la sanità privata Quindi eliminarlo È semplicemente un atto di equità E non avrebbe nessun genere di impatto Sulle casse regionali Perfetto Noi non possiamo lasciarla andare Da Radio Radio Senza averle fatto Una La domanda Delle domande Intanto perché Ci occupiamo di calcio Ah pensavo se mi hai fatto cantare O robe del genere No 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 Se ci pensa però Magari se c'è qualcosa Di persone che vuole ascoltare No No ci lasciamo Se volete abbassare l'audience Per esempio l'ino della Roma Perché noi la facciamo tutti La domanda ovviamente Sullo stadio Non possiamo farla Quella che potrebbe essere La futura presidente Della regione Lazio Lo stadio della Roma Lo stadio della Roma Era un progetto di edilizia contrattata Che cos'è l'edilizia contrattata? L'edilizia contrattata È quel sistema di rapporto Tra pubblica amministrazione E costruttori romani Che fa sì che non si Costruisca Palazzo Opere pubbliche Uffici Per le reali esigenze Della città Ma per le esigenze Del portafoglio Del costruttore Questa è l'edilizia contrattata Come è stata con il centro-sinistra In questi ultimi vent'anni C'era un progetto Sullo stadio della Roma Che noi Eridizzavamo Dall'amministrazione Marino Era un soggetto Che aveva Era un progetto Che aveva Dei grossi problemi Dal Problemi Della tenuta Idrogeologica Del sito Dove si andrà a costruire A progetti Di speculazione edilizia L'amministrazione Raggi Ha preso Quel progetto Lo ha Riformulato In accordo Con il proponente E adesso È venuto fuori Un progetto Che rispetta Innanzitutto I parametri Delle costruzioni Degli stadi Futuristici Perché prevede anche Perché il primissimo progetto Non le piaceva Poi dopo ci ha messo a mano Movimento 5 Stelle Col proponente Come dice lei Però è il primissimo Ma è il primissimo Era costruito più Sui bisogni di cassa Di qualcuno Che non sulle effettive esigenze Della città Il secondo Invece Che è quello Che è la discussione adesso In conferenza di servizi È un progetto Buono L'autorità Di bacino Del fiume Tevere Ha anche affermato Che Nel caso In cui Non nel caso Quando verranno effettuati I lavori propedeutici Alla messa in sicurezza Del sito Non ci sarà più neanche Il problema Del dissesto Idrogeologico E la novità È che l'amministrazione 5 Stelle Ha inserito Nella delibera Di approvazione Del progetto La condizione Che verranno effettuate Prima Le opere pubbliche E poi La costruzione privata Cosa che In tutte le costruzioni In tutti i progetti In tutte le urbanizzazioni Della città di Roma E penso a tutti i quartieri Di dormitorio Che sono stati costruiti In questi anni Non è mai successo Costruiscono le case Ci ghettizzano Le persone Creando le future Baglie romane Con problemi Anche di sicurezza sociale E poi le isolano Le isolano Ne tengono ai margini Della città Ma se il dialogo Perché insomma In conferenza dei servizi Ci siamo un po' arenati Parliamoci chiaro Ci sono i tifosi Della Roma Che stanno sempre lì Con l'ansia Secondo me Le cose non vanno avanti Ma il tifoso Deve augurarsi Domanda banale Probabilmente Che Roberta Lombardi Sia la guida Della regione Lazio In modo tale Che come dire Il dialogo comune Regione migliori Anche ai fini Dello stadio della Roma Ma assolutamente sì Il dialogo comune Regione Finora non c'è stato Nel senso Zingaretti ha usato La regione Come la sua sede Di partito E come è stato così Con l'acqua Quest'estate Come è stato Ed è con lo stadio Della Roma Com'è con il piano Rifiuti Che non viene approvato E quindi Seppure noi andiamo A raccogliere L'immondizia Non essendo Stato progettato Lo fa apposta Per mettere in difficoltà Una domanda Un sospetto legittimo Come dire Verrebbe Verrebbe Non sono persone Che hanno Sì o no Sì Sì Non sono persone Che hanno un concetto Di leale collaborazione Tra istituzioni Grazie Grazie Roberta Lombardi Speriamo che torni Presto a trovarci Grazie In bocca al lupo Per la sua campagna elettorale Viva il lupo E grazie Buon lavoro Che non si sa poi Quando si vota ancora Che ne so Questi Quando ci manderanno A votare Sarà sempre Troppo Anche su questa cosa Bisognerà vedere I sondaggi Se conviene o no Fare l'election day Esatto Esatto Perché loro decidono Quando mandarci a votare A seconda Della convenienza Del sondaggio Perché se per esempio Il PD va giù Non conviene All'election day Esatto Staccare le politiche Dalle amministrative È tutto un giochino A tavolino Ma d'altronde Insomma diceva Mark Twain Che se votare Contasse qualcosa Non ce lo permetterebbe Aia E questo è grave È un autogol Questo è un boomerang Facevo una citazione Ma noi smentiremo Mark Twain Se no è un autogol bestiale Sono riuscito a smentire Mark Twain E non è mica da tutti Grazie Robarti Buona giornata Buona serata Buona serata Allora andiamo subito a salutare Il dottor Mario Grazie a tutti